Amici e amiche buonasera e anche per me è arrivata la prima volta, la prima volta per un unboxing. È arrivato come vedete il cartone di Corel Club che è una delle tre aziende che mi segue dal punto di vista dell'integrazione. Tutti bene o male conoscete un po' la mia attività sia sportiva che anche professionale e vi posso garantire che insomma sono due attività o una vita dove forse alimentarsi nel miglior modo possibile non è sufficiente ma c'è anche bisogno di un'integrazione veramente molto complessa e anche devo dire mirata. Mirata per i vari momenti dell'anno dove c'è il momento del picco di forma, dove c'è il recupero, dove c'è la preparazione oppure come le settimane o i mesi dove l'intensità degli allenamenti è veramente sempre sempre più alta perché con la mia squadra per chi mi segue e mi conosce sa che abbiamo questi due mantra un passo alla volta ma anche di alzare sempre più l'asticella perciò alzando sempre di più l'asticella nei nostri progetti c'è sempre bisogno più di energie perciò ho la fortuna di avere Coral Club al mio fianco e andiamo a vedere cosa mi ha mandato per questo novembre e dicembre che è una fase diciamo così di recupero per fine appunto anno apriamo la scatola peraltro l'altro giorno abbiamo fatto una diretta con Coral Club il campione del mondo Michele Pittacolo anche lui atleta paralimpico e abbiamo parlato di un prodotto eccezionale che mi arriverà circa tra un mese perciò vediamo cosa abbiamo abbiamo la Coral Lecitina abbiamo i ProTivity che vi consiglio per quanto riguarda gli aminoacidi sono eccezionali poi vi lascio nella descrizione il sito della Coral e potete confrontare anche i vari prodotti ho chiesto un bel po' di Pentocan che sono praticamente i sali minerali e le vitamine da inserire sono capsule da inserire nelle borracce degli allenamenti ho chiesto un bel rifornimento perché i miei allenamenti ma non posso ancora dirvi sinceramente qual è l'obiettivo 2025 a cui mi sto preparando perché non abbiamo ancora tutti i tasselli ancora a posto però sto alzando la durata degli allenamenti poi il Mindset le pastiglie quelle per dormire per cercare di recuperare il più possibile durante la notte perché il recupero è parte integrante e fondamentale della nostra preparazione ovviamente il magnesio che non deve mai mai mancare il Coral Articock è eccezionale per le articolazioni che si va a sposare perfettamente con il biluron il prodotto che vi dicevo prima che è stato soggetto della dieta che abbiamo fatto perché tutte le mie avventure che faccio in giro per il mondo e non avere mai dolori articolari pur avendo anche 51 anni è un'attività importante secondo me è merito dell'alimentazione è merito dell'integrazione ma anche per la scelta dei prodotti per riuscire ad evitare tutto questo un'altra confezione di magnesio è l'H500 che si va a sposare benissimo con il Pentocan e creano, ti danno, ti donano diciamo così, energia per riuscire nel migliore dei modi a concludere i tuoi allenamenti io per chi mi segue su Facebook e sui social saprà ultimamente che ho avuto qualche difficoltà di stanchezza e secondo me è dato appunto dalla mia modalità che cerco, non dico di esagerare però a volte pretendo un po' troppo dal mio corpo e il bello della community su Instagram e anche su Facebook e da questo video parallelamente sul terzo canale anche su YouTube il bello è che hai 125.000 persone che ti seguono a cui chiedo anche dei consigli e ne sono arrivati veramente tanto non tanti non che non sapessi dove dovevo andare a parare però tante volte è bello anche un po' sentirselo dire è bello sapere che hai a fianco delle persone che non mettono solamente il like alle tue fotografie, ai tuoi post ma che leggono che leggono quello che tu vai a scrivere perché è vero che molte volte c'è la ricerca della fotografia, della qualità a giusti colori, a giusti inquadrature però credetemi che nel mio piccolo che non sono né scrittore, autore e quant'altro però mi piace scrivere i post mi piace curare il testo mi piace curare il messaggio e sapere che leggete mi fa estremamente piacere è tutto perciò abbiamo il mindset abbiamo il coral abbiamo gli aminoacidi abbiamo le vitamine abbiamo le proteine abbiamo tutto ciò che serve per un'attività di altissimo livello vi lascio il link qui sotto del sito della coral fate tutte le analisi confronti le investigazioni che volete e a prestissimo ciao grazie a tutti grazie a tutti